Grande Fratello 15, anticipazioni puntata di martedì 8 maggio 2018. Cosa succede ai concorrenti? . . . Cosa succede ai concorrenti di Grande Fratello 15 nel corso della nuova puntata di martedì 8 maggio 2018? Secondo le anticipazioni, sono questi i momenti più attesi per il nuovo appuntamento col reality show in programma in prima serata su C.A.N.A.L.E. 5. Questa settimana, infatti, oltre al fatidico momento dell'eliminazione, gli inquilini della casa più spiata d'Italia sono chiamati ad affrontare anche un nuovo ingresso e dei faccia a faccia. Ecco tutte le ultime news.Grande Fratello 2018, anticipazioni puntata di martedì 8 maggio. Aidan Zari faccia a faccia con Marco Ferri. . . . Nella puntata di Grande Fratello 2018 di martedì 8 maggio, un nuovo concorrente barca la Porta Rossa. Parliamo del chien umano, Rodrigo Alves. L'attenzione, però, è quasi tutta riservata alla reazione che avrà Angelo. . . . . Quindi, nel reality c'è spazio anche per due confronti molto attesi? Quello tra Aidan Zari e Marco Ferri, e quello a tre tra Luigi Favoloso, Patrizia Bonetti e Mariana Falace. . . . Ferri entra nella casa dopo che la concorrente spagnola ha più volte attaccato il naufago dell'Isola dei Famosi. . . . Dal canto suo, invece, la Bonetti ritorna nel programma per la resa dei conti con l'ex fidanzato di Nina Moric, e con la stessa Mariana. Colei che l'ha nominata facendola uscire. . . . Infine, c'è la nuova eliminazione tra Aida, Alberto, Luigi e Simone, i concorrenti nominei in questa settimana. . . . Grande Fratello 2018. Come seguire la quarta puntata in onda su C.A.N.A.L.E. 5.L.A. Quarta puntata di Grande Fratello 2018 è attesa in prima serata su C.A.N.A.L.E. 5 per domani, martedì 8 maggio. . . . Il nuovo appuntamento con il reality, trasmesso dalle ore 21 e 30 circa, si può seguire, anche in live streaming su Google. www.mediase.it barra c a n a l e 5 o in streaming on demand su www.grandefratello.mediase.it? A condurre Barbara Duzzo. www.mediase.it